Ragazzi ma che cacchio state combinando? Sempre a mangiare state Ma adesso sto facendo i film No adesso sto facendo i film perché è importante far capire che dietro ogni organizzazione Che ho fatto? Stai già a puntare una cucina sopra la parricchia No quella è per la moto porchettata che dobbiamo preparare le forcine come dici tu La moto porchettata è il giorno 9 settembre Sabato 9 settembre 2017 dalle 18 in avanti Quindi ci sarà Non fatemi mangiare con la bocca a fine Ci sarà allora la possibilità di girare su una pista fare delle prove di Gymkhana ma il clou della serata poi c'è la conclusione con La moto GP La moto porchettata Abbiamo anche un'altra sorpresa noi Cioè abbiamo le evoluzioni con i quote E' vero E' la Belen E' la Belen Con la farfallino senza? Sì Oh io però basta fare intervista che sennò qui carne vedo che vi siete proprio Quindi diamo un arrivederci Allo stadio della Vittoria Bari 9 settembre dalle 18 e 30 in poi Non mancate Arrivederci Èق usate Allo inning Non mancate Grazie